Ci ha stupito come attrice in Chiamatemi Gio, con il suo entusiasmo in My Camp Rock 2 e con la partecipazione a Ballando con le Stelle, Sara Santostasi ha dimostrato di essere una grande ballerina. E ora va a tutto ritmo per insegnarvi lo stile di Sissi e Rocky. A tutto ritmo Dance Time. Pronti per imparare Mix It Up? Prima ve lo facciamo vedere e poi lo dividiamo su due quattro, ok? Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Bene, lo dividiamo su due quattro, quindi partiamo a gambe aperte. Mentre le gambe si incrociano, si incrociano anche le braccia, poi li apro, poggio verso sinistra, poggio verso destra e ci fermiamo. Quindi rifacciamo una volta, uno, due, spingo tre e spingo quattro. Facciamolo un'altra volta, sette, otto, uno, due, tre, quattro. Ok, da qui andiamo avanti. Cinque, poggio la gamba, sei, giro, sette, mi chiudo e otto, apro le braccia e vengo su. Quindi da quattro, cinque, mi poggio, sei, giro, sette, otto. Proviamo ad unirlo tutto quanto. Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Adesso lo proviamo a fare a una velocità media. Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Adesso andiamo alla velocità proprio veloce veloce, eh? Pronti? Sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Semplice, no? E naturalmente una volta che avete imparato i passi potete metterli insieme e trovare il vostro stile. Seguite la programmazione per imparare altri passi ed allenatevi, eh? Perché a settembre toccherà a voi andare a tutto ritmo come Sissi e Rocky con A tutto ritmo Dance Time. Da settembre, sulla Disney Channel.